Siamo in diretta con Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, abbiamo l'onore di averlo con noi nella prima giornata della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. Dunque, Sangiuliano, decliniamo insieme il concetto di conservatorismo alla base di questa conferenza programmatica. Il conservatorismo cosa può offrire all'Italia, in che modo dobbiamo interpretarlo e cosa significa nella nostra storia politica? Ma il conservatorismo è, prima ancora di essere una posizione politica, quasi un sentimento spirituale e antropologico e l'adesione a una visione del mondo e delle cose. Per capire cosa è stato il conservatorismo nel Novecento, noi dobbiamo prendere a prestito una bellissima definizione di Giuseppe Prezzolini. Quando ci dice il progressista è la persona del domani, il conservatore è la persona del dopodomani. Perché il conservatore è colui il quale è chiamato a innovare, modernizzare una società, salvaguardando però i valori fondanti di questa comunità, l'idem sentire comune di questa società. Quindi una visione a cui improntare una modernizzazione sociale, economica, politica di una società, partendo però dai valori identitari dell'appartenenza a questa società. Quali sono le prospettive dal suo punto di vista del tema del conservatorismo sugli appunti di governo che la Meloni sta elaborando all'interno di questa Kermess e per il centrodestra più in generale? Questi li vedremo. Ovviamente il conservatorismo ha anche una ricetta economica, sociale, su cui orientare un paese. Quindi coordinarsi con quelle che sono le vocazioni strutturali di una nazione come l'Italia. Quindi quando si pensa all'Italia si pensa alle imprese, si pensa all'industria, si pensa al mezzogiorno. Si pensa alla capacità di far uscire quei valori che già sono intrinsechi nel tessuto produttivo italiano e farli poi decollare, cioè liberare le forze che ci sono nella società. In un'ultima battuta, quali sono le differenze sostanziali tra il conservatorismo e il progressismo? Pensiamo anche alle presidenziali francesi. La Le Pen ha ottenuto un risultato modesto, tuttavia la Meloni si è distaccata dal partito della Le Pen, anche perché non ha aderito al gruppo dei conservatori europei. Quali sono le differenze sostanziali? La Le Pen è un'altra cosa, non è conservatrice, perché i conservatori in Francia erano i gollisti. Conservatore certamente era il generale de Gaulle, conservatore per certi versi era Jacques Chirac, conservatore per certi versi lo è stato anche Nicolas Sarkozy e un'altra cosa. I punti di distinguo con i progressisti sono tantissimi, sono proprio una diversa concezione dell'umano, del mondo e della vita. Il conservatore crede all'individuo, destinatario di diritti e di valori. Il progressista invece crede nella società, in una massa indistinta, che non è l'individuo. Il conservatore vuole costruire la società, mettendo insieme le pluralità e le diversità dei singoli individui, che sono di per sé stesso un valore. Grazie direttore per essere stato con noi.